Ciao, io sono Marianne, ho 14 anni, ho frequentato oggi per la prima volta un corso con la Patrizia e vorrei consigliarlo non solo agli adulti ma anche ai ragazzi della mia età o ai più grandi perché comunque è una cosa molto bella, io infatti ho capito di non conoscere bene me stessa e ho potuto conoscermi meglio e poi ho riscoperto di avere molte più energie di quanto mi aspettassi e fa sentire proprio bene, quindi lo consiglio a tutti quanti. Grazie